E adesso parliamo di un'altra infezione, quella da xylella, che colpisce gli olivi, 50, quelli che sono stati infettati dal batterio a Monopoli, a ridosso della zona indenne. La regione ha già disposto l'eradicazione delle piante infette e i tecnici dell'ARIF, l'Agenzia regionale per risorse irrigue e forestali, temono che il batterio sia stato portato da un mezzo transitato lungo la statale 16. E' il servizio. Un focolaio di xylella è stato individuato su piante di olivo nelle campagne di Monopoli, in provincia di Bari, nella zona Cuscinetto e al confine con la zona indenne. Lo rende noto la regione dopo un monitoraggio effettuato dai tecnici dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale dell'ARIF, l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali. La regione ha avviato le ispezioni nelle aree circostanti, come previsto dal regolamento comunitario, andando anche oltre il raggio dei 100 metri attorno alle piante infette, per circoscrivere il focolaio e procedere immediatamente alla rimozione degli alberi infetti. L'identificazione del focolaio è stata possibile dall'attività di monitoraggio annuale, che ha già superato i due terzi della zona rossa, producendo circa 100.000 test, di cui solo 149 sono risultati positivi, spiegano i tecnici regionali, che evidenziano l'importanza di condurre accurate analisi epidemiologiche per comprendere le dinamiche di spostamento del batterio, con la formazione di focolai spesso particolarmente circoscritti. Il focolaio è una notizia molto grave, ma non inaspettata, considerata l'estensione della malattia, che ha assunto proporzioni inaccettabili proprio nella piana degli ulivi monumentali, commenta Coldiretti Puglia, che attraverso il suo presidente Savino Muraglia, sottolinea che l'insetto vettore è ancora attivo e continua a mietere vittime tra esemplari di pregio straordinario. Per Coldiretti continua a mancare una strategia condivisa e univoca tra enti regionali, nazionali e comunitari per fermare la malattia e ridare speranza di futuro ai territori che hanno perso l'intero patrimonio olivicolo e paesaggistico. L'associazione torna a chiedere la convocazione urgente di un tavolo istituzionale perché il dramma della Xilelle in Puglia continua a essere affrontato e gestito a pezzi, senza una strategia condivisa anche dai differenti enti proposti della regione, conclude il presidente Muraglia.